Allora io riprenderei dal punto in cui ci siamo lasciati ieri a parlare di grafi, in realtà eravamo praticamente terminato il capitolo di queste slide, riprendo velocemente le cose che abbiamo detto sul finire di lezione, perché poi i termini di oggi si torneranno utili, dove avevamo scoperto che gli alberi e i grafi che abbiamo inizialmente approcciato in due modi diversi, quasi indipendenti, in realtà sono due facce della stessa struttura dati, o meglio gli alberi sono un caso particolare di grafi, un caso particolare meno particolare di quanto si pensi, nel senso che dire, abbiamo detto, che un grafo sia aciclico e chiamarlo albero sono la stessa cosa, con la differenza che un albero si presume che sia connesso, altrimenti parliamo di foresta, ma questa se vogliamo una sottigliezza terminologica chiamare albero oppure foresta nel caso in cui sia sconnesso. Però la caratteristica principale di un albero è il fatto che sia aciclico, cioè un grafo che non contiene cicli. Detto in altri termini equivalenti, tra due qualunque nodi, quindi scelta, comunque vogliamo una coppia di nodi appartenenti alla stessa componente connessa, se vogliamo essere pignoli, esiste un cammino solo che li congiunga, esiste un modo solo che li congiunga, un percorso solo per passare dall'uno all'altro, è univoco, non ci sono altri modi. Se ci fossero due modi diversi, allora avremmo trovato il modo di creare un ciclo, vado per una strada e torno per quella diversa. Qui stiamo parlando di graffi non orientati. E questo è ciò che ci permette di poter scegliere arbitrariamente un qualunque nodo di un grafo aciclico, ossia albero, e usare quel nodo come radice. Perché il resto del grafo si orienta, non dico automaticamente, ma implicitamente, perché ogni altro nodo del grafo sarà raggiungibile in un solo modo, attraverso un solo tipo di percorso, da quella che abbiamo scelto come radice. Nel grafo in cui non ci siano cicli, questo è univoco, vedremo più avanti, quando parleremo di visite, cosa succede quando ci sono dei cicli, quindi quando non trattiamo alberi. Quindi in questo caso è un albero implicito, c'è un orientamento implicito degli archi dato dalla scelta della radice. Ma se io scegliessi la radice in un punto diverso, questi archi mi verrebbe voglia di orientarli in modo diverso ancora. La stessa informazione, gli stessi archi, gli stessi vertici, ma organizzati in un modo diverso perché ho scelto la radice in modo diverso. Questo se vogliamo è uno dei principi del bilanciamento degli alberi, così come l'avevamo visto negli alberi di ricerca, in cui posso cambiare la radice, posso spostare, prendere l'albero per un orecchio oppure per l'altro e lui sotto si riorganizza e ovviamente in funzione della radice che scelgo la lunghezza dei rami sinistri e dei rami destri sarà diversa e quindi posso giocare su questa flessibilità proprio per ottenere delle prestazioni migliori. Ecco, la slide che invece di ieri non avevamo citato è questa, ma se vogliamo non far altro che riprendere un concetto che avevamo dato all'inizio, che i grafi sia orientati che non orientati possono anche essere, come si dice, pesati. Un grafo pesato normalmente è un grafo nel quale qualunque arco ha associato un valore tipicamente numerico, tipicamente un numero reale. Questo vale sia per i grafi non orientati, in cui questo peso 4 vale sull'arco tra 1 e 2, varrà maggior ragione sui grafi orientati, in cui ovviamente ovvi ci siano archi diversi, nei due versi che vanno ad esempio da A a D e da E a A, questi due archi avranno ciascuno un peso indipendente dall'altro. Teniamo in mente queste varie sfaccettature perché poi questi grafi oltre che disegnati nella lavagna dovremo anche poi memorizzarli in strutture dati, quindi dove metto l'informazione sull'arco, dove metto l'informazione sul peso saranno domande che poi ci faremo. Tendenzialmente nella maggior parte dei casi i pesi sono numeri che si possono assumere positivi quasi sempre, perché rappresentano quasi sempre un costo o un beneficio nell'usare quell'associazione o nel passare da quel percorso. Però questo chiaramente lo scopriremo ragionando sulle applicazioni. Ecco, io prima di passare poi alla parte, diciamo così, implementativa, ho provato un attimo a fermarmi e dire ok, abbiamo visto queste strutture dati astratte dal punto di vista quasi matematico, abbiamo dato delle definizioni, ci siamo anche un pochino annoiati, abbiamo fatto dei disegnini di quattro palline alla lavagna. Ma perché facciamo tutto questo? Mi faccio la domanda, ma in quali condizioni quotidiane, incontro dei grafi o incontro dei problemi la cui rappresentazione, la cui modellazione sia riconducibile o si porti naturalmente ad essere ricondotta a quella di un grafo. E mi diventa quasi difficile dire il contrario, mi diventa quasi difficile trovare un problema che non coinvolga dei grafi o strutture dati simili, articolate in questo modo. Qui ho provato a elencare alcune cose ben note, poi approfondiamo poi alcuni di questi esempi. Dicevamo, l'avevo accennato ieri, il grafo dell'amicizia di Facebook. Una persona può essere amica con un'altra persona e viceversa, abbiamo detto che è un grafo non orientato, ma non solo, anche i post o i like. La persona emette un post e altre persone possono esprimere il like, il gradimento, il mi piace per quel post. Questo è un grafo di tipo già diverso, è un grafo in cui abbiamo da una parte i post e dall'altra le persone che fanno like. Impareremo a chiamare questi grafi bipartiti, cioè sono fatti di due tipi di nodi, alcuni nodi sono dei post, alcuni nodi sono delle persone e gli archi sono un like che una persona fa un nodo. Quindi avremo nodi, sono sempre tutti i nodi del grafo, ma li divideremo in due categorie perché dal punto di vista applicativo non c'entra nulla e quindi gli archi sono solamente tra i nodi di una partizione verso i nodi dell'altra partizione. Pensate a un torneo, quest'anno non ci sono i mondiali se non sbaglio, ma un torneo di calcio quando ci sono i campionati europei, mondiali e cose di questo genere. Le partite che si giocano. Noi abbiamo tendenzialmente un primo grafo completo, una serie di grafi completi se vogliamo presentare le partite che si giocano che sono i gironi, i gironi eliminatori. Tu fai un girono da quattro squadre e giocano tutte contro tutte. Quello è un grafo completo di partite, il cui arco può essere annotato, può essere pesato con il risultato della partita. E dopo, fatte le eliminatorie, le gironi di qualificazione, ci sono le gare eliminazione diretta, che sono un albero. Tu non giochi mai due volte con la stessa squadra. È un albero binario in quel caso, nella maggior parte dei casi. Ogni partita viene uno dei due, cede il posto, chi perde la partita esce dal campionato e invece chi vince sale di livello verso il nodo superiore. Quindi se dobbiamo presentare quei problemi sono grafi. Google stesso cosa fa? Un motore di ricerca. Un motore di ricerca spende la maggior parte del suo tempo a navigare, a leggere pagine web in giro. E si costruisce in pancia un gigantesco grafo i cui vertici rappresentano le pagine che ha indicizzato. Poi queste pagine a loro volta hanno una struttura perché sono composte da parole, da termini, eccetera. Ma mettiamoci la struttura superficiale, la macro struttura di un motore di ricerca. Ho tante pagine e so che queste pagine sono collegate da dei link. E quindi un grafo in cui i vertici sono le pagine intern che trovo e gli archi, gli edge, sono il link tra una pagina e l'altra. In questo caso è un grafo orientato. Un grafo orientato è pesato. La forza di Google quando era nata era proprio quella di dare un significato, un peso ad ogni link e ad ogni pagina che ti portasse un link che veniva chiamato, questo è il brevetto iniziale di Google, il cosiddetto page rank. C'è un modo per calcolare l'importanza di una pagina, per cui ricevere un link da una pagina importante per te dà un contributo maggiore che ricevere un link da una pagina creata ieri che nessuno legge. Quindi erano algoritmi di calcolo di questo page rank che si basavano sull'attraversamento iterativo di questo grafo. Se cercate page rank vedete come si calcola. Concettualmente non è difficile, la parte difficile è calcolarlo quando tu hai un grafo che ha centinaia di milioni di nodi. Esempi di, poi vi faccio vedere un paio di immagini su questo, l'analisi di che cosa fanno ad esempio gli utenti all'interno di un sito, sempre parlando di internet. Vi faccio vedere un esempio per spiegarlo meglio. Poi l'esempio semplice che abbiamo tutti in mente, la navigazione stradale. Trovare il percorso in un insieme di archi percorribili che sono le strade. Oppure l'associazione tra prodotti e consumatori. Vediamo qualche esempio, proviamo a approfondire alcuni di questi esempi. Partiamo dall'ultimo. Pensate di avere una serie di case da vendere, che qui ho chiamato 1, 2, 3, 4, e una serie di possibili acquirenti. ABCD. E costruiamo un grafo i cui vertici siano l'insieme di tutte le case e l'insieme di tutti gli acquirenti. Quindi è un tipo di grafo di quello che ho appena chiamato bipartito, cioè ho dei vertici che sono case e degli altri vertici che sono persone. Li metto tutti insieme, faccio un grafo e collego il vertice alla persona quando quella persona ha espresso il desiderio di acquistare quella casa. E quindi ho il grafo in cui mi dice A sarebbe interessato alla casa 1 oppure alla casa 2, B sarebbe interessato alla casa 3, C sarebbe interessato alla casa 2 o alla casa 4, e così via. Allora, questo problema di matching, di corrispondenza, che con le case degli acquirenti è un esempio, ma si trova molto spesso un problema di questo genere. Riusciamo a trovare una soluzione, una serie di abbinamenti che faccia contenti tutti? Cioè che venda tutte le case e che assegni una casa ad ogni acquirente? Questo è un problema algoritmico sui grafi. Possiamo provare a risolvere in modo intuitivo, vediamo, non so, la casa 1 la vuole solo A, quindi diciamo che gliela diamo a lui. B vuole solo la casa 3, quindi diciamo che la casa 3 la associamo a B e poi rimane, siamo fregati, perché la casa 3 è voluta da B ed è voluta da D, ma B e D non esprimono altre preferenze. Quindi tra B e D uno dei due deve rimanere a bocca asciutta. E a questo punto C potrà comprare la casa 4, quindi noi potremmo dare la casa 1 ad A, la 2 a C, la 3 ad A e rimane B senza più nulla, senza essere soddisfatto. E ovviamente una casa invenduta. Quindi questo è un caso di matching non risolubile, cioè non esiste un matching perfetto. Magari ci potremmo chiedere, in generalizzazione di questo problema, esiste un matching ottimale. Vabbè, magari non riesco a vendere tutto, oggi non riesco a chiudere tutto oggi, ma cominciamo a cercare di vedere qual è il massimo rendimento che riesco a ottenere oggi. Proviamo ad associare delle cifre, il guadagno di ciascuna vendita, che sarà ovviamente il costo dell'immobile meno, anzi, al contrario, l'offerta fatta dall'acquirente. Quindi magari non riesco a soddisfare tutti, lascio qualche casa invenduta e qualche utente non soddisfatto, ma pur in questa condizione, qual è la combinazione tra le varie possibili che mi permette di guadagnare di più? Questa famosa casa 3, conviene di più darla a D o a B? In questo grafo è facile, basta dire quello dei due che offre di più, ma nel caso generale, dove gli intrecci possono essere molteplici, non sempre si possono fare delle scelte locali. Vedo un nodo e capisco qual è la scelta migliore da fare su quel nodo. Bisogna fare i tentativi delle ricerche. Viceversa posso dire, io cerco di minimizzare il numero di case non vendute, perché voglio comunque riuscire a venderle, quindi ho una funzione di costo che mi tiene conto sia di quanto guadagno che di quanto ho, barra non ho venduto. Sono una serie di problemi che si possono costruire sulla base di questo schema. in astratto, non ricordo più quale sia il nome che danno a questo problema, ma visto in modo più astratto, in senso più matematico, di solito questo problema viene descritto con uomini e donne su un'isola deserta. Quindi da un lato all'altra sinistra ci sono gli uomini, dall'altra sinistra ci sono le donne e tu devi fare gli accoppiamenti graditi o meno sgraditi tra tutti in modo da... però è il problema di... non a caso matching si traduce con accoppiamento anche. Vabbè, un altro problema, sempre modellabile con i grafi, immaginate di avere una riserva d'acqua, cioè un lago, un bacino idrico da qualche parte, su un altopiano, su una collina, su una montagna. E voi con quell'acqua dovete rifornire una serie di città. Quindi i vostri dati è la posizione di un nodo principale, la posizione del bacino, e la posizione di una serie di città. Il vostro compito è quello di costruire il sistema di acquedotti più efficiente, meno costoso possibile. Allora, conviene fare una topologia a stella, per cui dal bacino mi collego, faccio una tubatura verso la città 1, un'altra verso la città 2, un'altra verso la città 3? E dipende, se le città fossero tutte più o meno intorno al bacino, forse sì. Oppure conviene fare una tubatura dal bacino alla città 1, poi dalla città 1 alla città 2, poi dalla 2 alla 3, dalla 3 alla 4, e così via collegarle in catena. E dipende, se le città fossero, guarda caso, messe in fila, magari sì. Ma in un caso generale delle disposizioni in cui le città non sono esattamente in cerchio, neppure esattamente in fila rispetto al bacino, sarà una combinazione, no? La copertura migliore. Allora, dal bacino collego magari la città 1, poi la città 2, mentre la 3 prende l'acqua dalla 2, quindi faccio da bacino alla 1, dalla 1 alla 3, poi dal bacino alla 2, dalla 2 alla 4 magari, e dalla 2 magari anche alla 5. Dipende da dove sono messe, dipende da quali sono le loro distanze reciproche, qual è il costo di fare le varie tratte di acquedotto. Quindi noi partiamo da un grafo completo in questo caso, perché potenzialmente posso fare tutte le tratte di acquedotto che voglio. È un grafo completo. Non c'è nulla che mi impedisce di fare una tratta tra la città 7 e la città 12. La domanda è, la voglio fare? Quindi in questo caso devo selezionare un sottoinsieme minimo di archi all'interno di un grafo completo che sia in grado di toccare tutti i vertici. Si chiama copertura di un grafo. Deve riuscire a coprire tutti i vertici con il numero minimo di archi. E poi in realtà il problema vero non è il numero minimo di archi, ma è l'insieme di archi di costo minimo, la cui somma dei costi di ciascun arco, perché gli archi non sono tutti uguali. Se le città non sono tutte equidistanti, gli archi non avranno tutti lo stesso costo. Quindi in realtà il problema di copertura minima di un grafo è trovare un albero, perché stiamo facendo un albero, stiamo facendo dei percorsi che dal bacino arrivano ad ogni città in un modo ben preciso, quindi stiamo definendo un albero, è aciclica questa cosa, l'acqua va in discesa, dicono. Un albero di copertura minimo, questo è il problema teorico. Alla fine se analizziamo dei problemi pratici come questo, il problema di organizzazione territoriale di fatto, di pianificazione territoriale, ritroviamo lì dentro dei problemi che sono stati studiati ad esempio nella teoria dei grafi. Ad esempio siamo ricondotti a quello che si chiama l'albero di copertura minimo. Esiste, andate a prendere un libro, cercate su internet l'albero di copertura minimo e usate fuori gli algoritmi da usare sui grafi per calcolare questi alberi di copertura minimi. Il lavoro che dobbiamo fare noi è riuscire ad arrivarci fin lì, a ricondurre il problema, capire che questo cos'è, è una mappa, ma una mappa in realtà la posso vedere con una serie di punti e questi punti inducono un grafo completo in cui ciascuna coppia di nodi ha un costo di collegamento che dipende dalla distanza. Poi in realtà ci accorgeremo che l'albero di copertura minimo non risolve il vero problema, perché io quando faccio l'albero di copertura minimo associo ad ogni arco un peso, ok? Supponiamo che il peso sia il costo, ovviamente, della tratta di erodotto da un punto o l'altro. E l'algoritmo mi trova l'albero di copertura che ha costo minimo. Il problema è che questo costo nell'algoritmo io lo devo segnare sul grafo completo, iniziale. È come dire che una tratta dal punto 1 al punto 2 ha un certo costo, indipendentemente da quali altre tratte vengono scelte. Perché magari dipende solamente dai chilometri o dal dislivello o dalle difficoltà orografiche che incontro. Ma non è vero. Perché se io avessi per assurdo la città 1 che riceve dal bacino e poi dalla città 1 distribuisce a tutte le altre, è il tratto di acquedotto che va dal bacino alla città 1 dovrà avere un diametro, una portata molto maggiori, che se non lo stesso acquedotto dovesse servire solo a città 1 e le altre città si riforniscono separatamente. Allora vediamo che il costo di una connessione, il peso di un arco, detto nel linguaggio dei grafi, non è più indipendente da quali altri archi scelgo. Ma è una funzione che cambia dinamicamente. Allora purtroppo questo l'algoritmo del minimum spending tree, dell'albero di copertura minimo, non ce lo dà, non lo prevede. Però potremmo sempre partire da lì per costruirci il nostro algoritmo di ricerca modificandolo in qualche modo. Quindi è qui che sta, se vogliamo, il confine tra la ricerca operativa e l'informatica. Da un lato devo riuscire a ricondurmi a un problema noto, di cui magari si trovano delle soluzioni algoritmiche già ottimizzate, già perfette. Ma poi uno si accorge che quella soluzione algoritmica ha, maledizione, un'ipotesi di troppo. O un sottinteso, un assunto, che non mi va bene. Come ad esempio il fatto che il costo di una tratta di acquedotto sia indipendente dalla portata che deve portare. Ma dai, non ridiamo. Possiamo mettere un costo indicativo per avere una prima indicazione di massima, ma poi quello sarà veramente l'ottimo? Magari no. E allora dobbiamo riuscire a poi trovarci, e poi la ricorsione, il nostro amico in questi casi, in cui devo andare a esplorare tante soluzioni alternative possibili, partendo magari da una soluzione che sarebbe ottima nel caso di pesi costanti, ma non più ottima nel caso di pesi variabili, cercare la soluzione migliore. E questo è poi il lavoro che dovremmo fare, quello detto problem solving. In condizioni, non dico reali, ma più realistiche, in cui non abbiamo il lusso di ignorare alcune variabili o alcuni vincoli. Ovviamente questo problema di copertura si può trovare ovunque, ovunque dobbiate costruire una rete, avete quel problema lì. Questo è un problema in cui i punti, i vertici sono noti, sono fissi. Il problema si complica di più, qui ho scritto per la telefonia, per la telefonia fissa sì, per la telefonia mobile il problema è ancora più complicato, perché in realtà il posto in cui metto il ripetitore me lo posso giocare, lo posso spostare e quindi ho anche la variabilità di dove si trovano i nodi, non solo come li collego l'uno all'altro. Un altro esempio, questo è una videata tratta da Google Analytics. L'Analytics, forse qualcuno lo conosce, è un servizio di Google che traccia gli accessi che gli utenti fanno ai siti web. Quindi ogni volta che vi collegate a un qualunque sito, in realtà dentro l'HTML della pagina c'è un pezzettino di script che manda a Google l'informazione che un utente, con i vostri dati se può, che un utente ha navigato quella pagina di quel sito. E quindi l'amministratore del sito, anziché farsi lui del meccanismo, degli script, dei database per tenere tracce di ciò che fanno i propri utenti, si collega direttamente a Google Analytics e questo gli fa vedere quanti utenti ci sono stati nell'ultima mezz'ora o il grafico storico degli accessi, ma va bene. La cosa che vi faccio vedere qua è il grafo dei percorsi degli utenti. Questo qua è il sito Elite, ci sono i materiali didattici, ho scelto un periodo di tempo che non so qual sia e fa vedere che, purtroppo la luce non aiuta, ma ci sono varie provenienze degli utenti, alcuni sono detti direct, quindi gente che aveva l'indirizzo nel browser, alcuni sono chiamati Google, quindi gente che ha trovato il sito dal motore di ricerca, c'è Facebook, c'è search.polito.it, polito.it, potente di portare da didattica o altro. Quindi da dove arrivano gli utenti? E poi qui fa vedere, in modo graficamente anche carino, che degli utenti che provengono da questa fonte, ce n'è una fetta abbastanza larga che va su questa pagina direttamente. Vedete le fette? Riescono a distinguere i colori. Poi c'è una fetta più piccola che va qui, un'altra fetta più piccola che va a quest'altra pagina e così via. Quindi io vedo che gli utenti che arrivano in questa pagina provengono in buona parte, sono di questa categoria qua. Poi c'è una piccola parte che arriva da Facebook e una piccola parte che arriva dal motore di ricerca del poli, non ce n'è quasi nessuno apparentemente che arrivi in questa pagina arrivando da Google, perché non lo so, dovrei andare a vedere cosa c'è in quella pagina. E idem sugli altri casi, questo che cos'è? È un grafo diretto pesato. Ci dice gli utenti quando sono su un certo pagina, dove vanno e con quale probabilità, con quale percentuale. E qui in questo caso questa grafica ci mostra la probabilità percentuale anziché come un numerino, ce lo mostra con lo spessore di una linea, che visivamente questo tipo di diagramma viene chiamato diagramma alluvionale o alluvial in inglese, perché sembra che siano dei flussi di acqua che si dipartono. E questo è un altro modo per rappresentare che cosa fanno i tuoi utenti nel tuo sito. Chiunque faccia marketing non può non studiare queste cose, per capire qual è l'impatto delle informazioni che hanno messo, cosa gli utenti guardano, dove lo guardano, da dove arrivano, che cosa fanno dopo aver visto il prodotto, quanti prodotti in media guardano prima di comprare o prima di abbandonare. Queste lacrime rosse qua indicano la percentuale di utenti che lascia il sito, quindi dopo aver visto questa pagina non ne vede più un'altra. Qui sembra quale sia praticamente il 100% su questa pagina. Adesso non so quale sia, è quella delle tecnologie e programmazione, ma perché probabilmente arrivate su questa pagina, trovate quello che volete, chiudete il browser, scaricate quello che vi serve, chiudete il browser e andate via. Non è che da lì venite da navigare ad un altro sito, chissà quali altri cose ci sono, non è che sia un sito particolarmente invogliante da quel punto di vista. Però in altri casi uno dice, tanti arrivano su questa pagina e poi vedono quella pagina lì ed escono. Perché? C'è sempre un perché dietro le cose. Lo strumento per riuscire a analizzare queste cose, guarda caso, è un grafo diretto orientato, i cui nodi sono le pagine, più alcuni nodi speciali che sono i punti d'ingresso e i punti d'uscita, che li dovremmo modellare come nodi in più, e gli archi sono le transizioni tra pagina a pagina, ma ciascuna notata con la propria probabilità o frequenza. Se vogliamo una sintesi di questo potrebbe essere rappresentata sotto forma di grafo così, in realtà non sono esattamente la stessa cosa, però potrebbe essere un grafo che rappresenta la situazione a regime probabilistica delle transizioni degli utenti all'interno del sito. Quindi andando ad analizzare cosa fanno gli utenti, uno può alla fine ricavarsi quali sono, è un modello questo, no? È una macchina di Marco, di fatto, perché sono delle probabilità, il modello di evoluzione degli utenti, che gli può servire per studiare che cosa fanno, quindi si va a fare poi uno studio degli utenti, del comportamento degli utenti, qui parlo del caso dei siti web perché sono quelli più facili da tracciare, ma chiaramente il modello si applica anche ad altre tipologie di servizi. Altri problemi, quelli più semplici da capire oggi che abbiamo in mano i navigatori, sono ad esempio i problemi basati sulla topologia, sulle strade, sulle viabilità. Il classico che si studia a scuola è il cosiddetto TSP, il problema del commesso viaggiatore, Traveling Service Man Problem. Anche qua il problema del commesso viaggiatore si pone su un grafo non orientato pesato, in cui tu sai che il commesso viaggiatore deve toccare N città che sono i vertici, le può toccare in qualunque ordine, quindi può andare dalla città A alla città B a sua scelta, senza limiti, quindi il grafo è completo per questo, ma il costo di spostarsi da una città a un'altra dipende ovviamente dalla loro posizione e dalle strade che incontra. E quindi lui deve trovare quello che si chiama ciclo amiltoniano, cioè un percorso chiuso che tocchi tutte le città, perché deve fare tutte le consegne, di costo minimo. E' se vogliamo la versione moderna del problema dei ponti, della cittadina con cui avevamo esordito ieri, dove là si parlava del ciclo euleriano perché era solamente importante attraversarli i ponti, non c'era un peso, non c'era un costo, invece quando si parla del ciclo amiltoniano questo ha associato anche un peso. Poi alcuni di questi problemi che hanno un nome li vedremo poi più avanti, però è tanto per inquadrare che poi alla fine i problemi pratici si riconducono a problemi di grafi. Anche qui, qual è il costo? E' vero che il costo di fare andare dalla città alla città B dipende solamente dalla loro distanza, magari dall'ora del giorno se contiamo il traffico, ma dipende da cosa deve consegnare questo signore, se questo signore deve consegnare dei déplianti, sì. Se questo signore invece ha un autocarro che deve trasportare degli oggetti pesanti, allora quando viaggia scarico consuma meno gasolio e quindi magari conviene consegnare prima, non so, gli oggetti più pesanti o le quantità maggiori, in modo che la maggior parte del percorso la faccia con un carico minore. E allora di nuovo il costo di spostarsi da una città all'altra non dipende solo tra le due città, ma da quale città ha visitato prima e quindi cosa ha già scaricato prima. E di nuovo il problema pratico è più complicato del problema semplificato per poter entrare nei libri di algoritmi. Vabbè, poi questo qua è un altro tipo di grafo che tutti noi quando viaggiamo, al di là di Torino che c'è una linea che va avanti e indietro, ma quando viaggiamo nelle metropolitane delle città europee, impariamo a consultare, per andare da un punto a un altro dove mi conviene passare, quali linee, quali tratte devo prendere e dove devo cambiare. Questo come grafo è abbastanza complesso, perché, a parte il fatto che sono tanti nodi, ma non è complesso perché è brutto, ma come struttura. Quali sono i vertici, le stazioni? Quali sono gli archi? Questo è un po' più difficile da dire, perché gli archi, sì, sono le tratte, dice che questa stazione è collegata a questa da una tratta di treno. Però le tratte non sono tutte uguali, perché appartengono a linee diverse. E quindi gli archi in qualche modo sono annotati, etichettati, ricordate che abbiamo parlato di label graph all'inizio, grafi etichettati, dove l'etichetta in questo caso non è un peso, ma è un colore, un numero di linea. Allora qui trovare il percorso migliore tra due città, tra due stazioni, non è solo trovare almeno un cammino, ma trovare un cammino che potenzialmente minimizzi non il numero di tratte, perché una metropolitana va talmente veloce che fare una fermata in più, una fermata in meno non ti interessa, ma il numero di cambi devi minimizzare per ottimizzare il tempo. Per cui andare da qui a qui conviene fare così e poi scendere, cambia una sola volta, piuttosto che fare così puoi scendere e puoi spostarsi di là, che magari avrebbe meno fermate, non lo so, preso un esempio a caso. Però la funzione di costo in questo caso non è la somma dei pesi degli archi, ma è il numero di vertici in cui devo cambiare e questo non si presta a essere formalizzato così come un grafo normale come li abbiamo visti. Dovremo sforzarci di rendere un pochino più complicata la rappresentazione del grafo e tenerne conto nei nostri algoritmi risolutivi. È facile, quando trovi il sito e dici voglio andare da qui a qui e ti dà la soluzione, però pensare di calcolarla è un altro mestiere. Eppure diamo per scontato che ci debba essere, sia così, ci aspettiamo che ci sia, dobbiamo solo imparare a farlo bene. Altri problemi, ancora più lontani se vogliamo, c'è tutto il ramo della chimica computazionale. C'è uno dei problemi computazionalmente più, su cui ci sono più investimenti in questo periodo, è quello della forma delle proteine, che c'entra. Una proteina, scusate se sono ignorante in tema, ma di fatto ha una formula chimica che è data ad una serie di, è una molecola, una molecola che ha una certa sua struttura. Questa struttura però trova, come tutte le molecole, ha una sua forma nello spazio, quindi si piega, per quello si chiama i protein folding, si piega su se stessa, fino a ottenere, sfruttando i gradi di libertà dei legami, fino a ottenere la configurazione di energia minima, come fanno tutte le molecole di questa terra, anche quelle che abbiamo studiato il primo anno chimica, che avevano 3 atomi o 4, e lì è facile. Il fatto è che sapendo quali sono i legami di una proteina, non è affatto semplice calcolare questa, come si va a piegare. E come sempre, la natura ci mette lo zampino, la maggior parte delle proprietà di una proteina, cioè come si comporta, diciamo pensando nel corpo umano ad esempio, dipende dalla sua forma, dalla forma che assume, non tanto dai suoi elementi chimici, perché sono sempre gli stessi, sono combinazioni sempre degli stessi 4-5 elementi chimici. Quindi è importante per i chimici riuscire a dire, ok, questa proteina qua che ho scoperto, questa nuova formula, che ho inventato magari a tavolino, è utile? Cosa farà? Se faccio reagire queste due cose, mi esce fuori quest'altra, che cosa farà? Beh, devo capire come si ripiega. E questo è un problema di calcolo, che deve trovare, in questo caso, le posizioni dei vertici in uno spazio 3D, che minimizzano una funzione che è di fatto legata all'energia potenziale reciproca dei vari nodi, col vincolo che la distanza tra i nodi, quindi la lunghezza degli archi, è vincolata da quelli che sono i legami chimici. Anche qua ovviamente è un grafo, un grafo in cui i vertici sono gli atomi, gli archi sono i legami e c'è una funzione di costo da ottimizzare che è l'energia potenziale di legame di questa proteina. Qui ho trovato una figura di una parte del grafo di Facebook centrato su una persona che non so chi sia. Intuitivamente sappiamo com'è, in realtà visivamente non riusciamo più a capirci nulla, perché ogni persona ha molte connessioni, in una di queste ha molte altre connessioni, non solo con la persona da cui siamo partiti, ma con altre persone. Questa mappa qua poi è colorata in qualche modo. Questi colori lasciano sottintendere, di nuovo non si vedono molto, ma se lo vedete poi su PC sono più evidenti le differenze di colore, sottintendono un altro problema sui grafi. Oltre al fatto di riuscire a essere capaci di rappresentare grafi che contengono di nuovo centinaia di milioni di nodi, ma il problema che è rappresentato in questa figura è il cosiddetto clustering. Se io ho 200 amici, mille, quanti sono? Non lo so. Come quel signore lì. Riusciamo a farne dei, a dividerli in gruppi, macrogruppi questi amici, sulla base delle loro amicizie reciproche? No? Come si dice, chi studia le reti sociali, uno ha la sua rete di contatti di lavoro, quella rete di contatti familiari, degli ex compagni di scuola, che tendono a essere intrecciati tra di loro all'interno di ciascuno di questi sottogruppi, macrogruppi, ma non tra un macro gruppo e l'altro, se non casualmente. Il problema del clustering è quello di trovare un sotto insieme di sottografi disgiunti tra di loro, che abbiano la massima densità interna e la minima interconnessione esterna. Quindi un problema di ottimizzazione, trovare questo qui, dove lo metto? Di qua o di là? Ma non è solo il fatto che se lui ha più archi che vanno di qua o più archi che vanno di là. Perché nel momento in cui lo sposto di qua o di là, sto cambiando la bontà, il peso, non solo di quel nodo lì, di tutti gli altri, quelli che appartengono a quei cluster. Quindi di nuovo è una scelta che non si può fare localmente. Quanti cluster faccio? Due, tre, sette? Qual è quello che mi dà la soluzione ottimale? Quello del cluster in un altro dei problemi classici sui grafi. Trovare dei gruppi di elementi che tra di loro si somigliano all'interno del gruppo più di quanto ciascun gruppo somiglia agli altri e quindi quanti gruppi ci sono. Di nuovo un altro, oltre al fatto dei reti sociali, nel caso del marketing, è di nuovo un altro problema molto importante che si chiama segmentazione del mercato. Tu la puoi fare a priori, a tavolino, spremendosi le meningi, oppure a posteriore andando a vedere le vendite, andando a vedere chi compra cosa. Amazon lo fa al volo. Quando dice tu hai comprato questo, ti potrebbe interessare quest'altro, pensate al casino che sta facendo. Sta andando a analizzare tutte le vendite passate di tutti gli utenti e agli utenti li avrà ovviamente classificati sulla base di qualche categoria che conosce lei, perché questo qui magari è uno che compra libri, l'altro uno che compra musica, l'altro uno che... Sotto ci sono tutte queste cose. Vabbè, poi ci sono cose più prosaiche. Io ho ripresentato un flowchart che è di fatto un grafo, quindi la base dell'informatica. Ma se pensate anche a tutti i processi aziendali che gestiscono i sistemi informativi, sono descrivibili in questo modo. Quindi ogni software che dovrà gestire dei processi aziendali in cui la cosa A va fatta dopo che ha completato la B, è il responsabile per firmarlo al signor C e di nuovo sono grafi per rappresentare le strutture a rete, che può essere sia una struttura organizzativa che è una struttura operativa, una linea di produzione, è di nuovo rappresentata in questo modo. Veramente è difficile trovare un problema in cui la soluzione non passi attraverso una modellazione su un grafo e poi la risoluzione di alcuni problemi di ricerca o di ottimizzazione, più avanti tra qualche settimana distingueremo bene che cos'è ricerca e cos'è ottimizzazione, su questa struttura grafo. In cui alcune volte, quando siamo proprio tanto fortunati, questo problema si riconduce a un algoritmo noto in letteratura. Ma invece nella maggior parte dei casi il problema si riconduce a una combinazione di uno o più algoritmi noti in letteratura con qualche modifica per farci rientrare dei vincoli che nel mio caso reale sono importanti e nel problema matematico no, non sono invece considerati. Quindi questa è un po' la logica con cui cercheremo di affrontare questa parte di argomenti. Ok, per entrare un pochino più nel pratico, Lasciamo da parte per un attimo i problemi teorici, le rappresentazioni matematiche, poi lo andiamo a riprendere quando vedremo quali sono i problemi classici sui grafi, no? Quello come se viaggiatore, la copertura minima, la colorazione, il clustering, queste cosette qua. Ma prima di andare di nuovo a buttarci su cose più teoriche, facciamo una parentesi informatica, chiediamoci, allora, ma questi grafi, una volta che li ho definiti, come faccio a rappresentarli, qual è il modo migliore o quali sono i modi possibili per memorizzare un grafo in un programma informatico, in una struttura dati, quali strutture dati uso? E poi in questa stessa presentazione c'è anche come faccio a visitarlo. C'è quello che avevamo nelle collection, tu avevi una lista che è un modo ordinato di disporre degli elementi e poi avevi l'iteratore che te li faceva visitare tutti. Le due cose di base, come faccio a mettergli elementi, memorizzarli e a elencarli. Questa volta però gli elementi non sono in fila indiana in una lista, ma sono gli elementi di un grafo. Allora, chiediamoci come si fa. Partiamo dalla rappresentazione. Come rappresentiamo un grafo? Allora, ci sono vari modi, i principali sono questi quattro indicati qua, di rappresentare un grafo all'interno di un programma. Divisi in due grosse categorie, rappresentato attraverso liste o attraverso matrici. Noi questo discorso qui lo facciamo nel caso generale, quindi cerchiamo di pensare, di tenere a mente perlomeno tutte le tipologie possibili di grafi, orientati o non orientati, pesati o non pesati, con archi multipli, senza archi multipli, con loop, senza loop, e basta. vedremo che poi in alcune combinazioni si possono fare, altre no. Allora, strutture a matrice e strutture a lista. Di queste varie strutture possibili, quelle che ho indicato qua in grassetto sono quelle più utilizzate, e che approfondiremo un pelino di più. Partiamo dalla prima, la lista di disecenza. Quindi, lista, memorizziamo un grafo attraverso una serie di liste, una per ogni vertice. Quindi noi abbiamo, pensiamolo come oggetti, Java, un oggetto vertice, a questo oggetto vertice, che avrà i suoi attributi, il nome, dove si trova le coordinate, non mi interessa, agganciamo una lista. Questa lista conterrà una serie di, quindi una collezione, una list, no? Una linked list, se volete. Conterrà l'elenco degli altri, no, gli altri vertici del grafo a cui questo vertice è collegato. Graficamente la vediamo così. Io, con riferimento a questo grafo sopra, che è un grafo non orientato, poi casualmente non è connesso, ma non ci fa nessuna differenza, ho tutti i vertici, sono nove vertici, se non ho sbagliato a contarli, e il vertice A è collegato B e C. Il vertice B è collegato A, C, D, E. Il vertice C è collegato ad A, B, D, E, e così via. Ok? Perché, vedete, B è collegato ad A, è collegato a C, è collegato a E, è collegato a D. Quindi nel vertice B, memorizzo una lista che contenga A, C, D, E, in qualche ordine. In questo caso sembra che li abbia messi in ordine alfabetico, ma l'ordine non è poi così importante. Quindi quello che dice è che ciascun vertice ha una lista di quali vertici, la lista che contiene, quali vertici sono adesso adiacenti. Nei grafi non diretti, l'informazione qua dice duplicata. Cosa vuol dire l'informazione duplicata? Che se B è adiacente ad E, anche E sarà adiacente a B. Quindi se nell'elemento di B trovo E, nella lista di E troverò B. Quindi il numero di elementi in questa lista è il doppio del numero di archi. L'alternativa, quindi questa come lista di adiacenza, l'alternativa è quella, l'alternativa principale, no? È quella di usare invece una struttura matrice, per cui detta matrice di adiacenza, che è una matrice quadrata, con il lato pari al numero di vertici, e in cui gli elementi della matrice valgono 1, 0, a seconda che i j, i due vertici, corrispondenti alla riga e alla colonna, siano connessi oppure no. Quindi lo stesso grafo di prima si può rappresentare anche attraverso questa matrice, che vediamo qua a sinistra. Abbiamo detto che B ed E erano collegati, e quindi riga B colonna E troverò 1, così come riga E colonna B troverò 1, mentre troverò 0, ad esempio riga F colonna B, perché F e B non sono collegati. Queste due strutture dati hanno esattamente la stessa informazione. Ci dicono quali sono i vertici e soprattutto quali sono gli archi, cioè quali coppie di vertici sono tra di loro collegati. Esistono poi altre strutture più complesse, come ad esempio la lista di incidenza che è analogo alla lista di adiacenza, ma anziché, diciamoci un passaggio in più, in una lista di adiacenza la lista contiene riferimenti a vertici. In una lista di adiacenza, invece, la lista conterebbe riferimenti a un oggetto diverso, che chiamiamo arco, il quale arco ha il riferimento al vertice. Quindi c'è un livello in più. Ma ti permette di avere un oggetto esplicito che si chiama arco, al quale poter associare informazioni, senza doverlo duplicare. In questa rappresentazione, la lista di adiacenza, diventa difficile rappresentare un grafo pesato in modo coerente. Perché lo stesso arco è rappresentato in due posti, in due nodi diversi. Se cambi il peso di uno, ricordate di cambiare anche il peso dell'altro. Sarebbe più comodo, a volte, avere un oggetto unico che rappresenta quell'arco lì e nelle liste associati a ciascun vertice punti agli oggetti arco che hai creato. Quindi avere una serie di oggetti vertici, una serie di oggetti arco e le liste di archi che sono associati ai vertici. È un po' più macchinosa da gestire, ma è un'altra rappresentazione possibile. Poi c'è la matistica di incidenza, di cui vedremo un esempio più avanti perché ha parole contorta da spiegare. Dico solo per ora che ha una dimensione che non è più quadrata numero di vertici per numero di vertici, ma è rettangolare numero di vertici per numero di archi. Riprendiamo la definizione quando la vediamo. negli esempi che seguono. Beh, qui ci sono alcuni esempi più semplici che non fanno altro che richiamare ciò che avevamo appena detto su grafetti più piccoli. Liste, dove però faccio la differenza tra grafo orientato e non orientato, come invece nel esempio di prima o nella definizione non c'era. Allora, questo è un caso di una lista di adiacenza per un grafo non orientato, quello che abbiamo visto prima. O, diciamo così, un array, potrebbe essere un array list, di vertici, ciascuno di quali contiene una lista di riferimenti ai vertici. quindi il 2 è collegato al 5, al 3 e al 4, il 2 è collegato al 5, al 3 e al 4. Poiché il grafo non è diretto, appunto, dicevamo che ogni arco è rappresentato due volte da due distinti oggetti. Questo è solamente l'unico elemento che rende complicato questa rappresentazione associare dell'informazione negli archi. Perché c'erano i due posti. E non ho, da nessuna parte, rappresentato esplicitamente l'arco come oggetto nel mio programma. Allora, qui un altro esempio che fa vedere che questo è un grafo non connesso addirittura con un vertice isolato. Qui la notazione è diversa, perché ho preso queste figure da fonti diverse, ma l'idea è la stessa. Non importa se il grafo... anzi, non riesco neanche a capire guardando le liste così a una prima ispezione superficiale se il grafo è connesso oppure no. In questo caso è disconnesso, ma l'appresentazione vale anche per grafi non connessi. Per grafi diretti si può sempre usare la lista di adiacenza. Questa volta, ovviamente, non è più simmetrica la situazione. per cui vedremo che, ad esempio, 2, dal vertice 2 la lista di adiacenza dirà che sono adiacenti il vertice 4 e il vertice 3. Quindi il 2 ha 3 e 4 come vertici adiacenti. Ma il 4, in questo caso, non avrà più il 2. Il 4 ha solamente il 5. Questo facilita, ovviamente, l'attraversamento del grafo nella direzione delle frecce. Se sono su un nodo e voglio vedere quali sono i miei nodi discendenti, li ho esplicitamente qua nella lista. Rende molto complicata la domanda inversa. Quante frecce entranti ha il nodo 2? E da chi? Eh, beh, se sono sul nodo 2 non mi dice nulla su chi arriva al nodo 2. Dovrei andarmi a guardare tutti gli altri nodi per vedere se per caso nella lista di adiacenza di qualcuno degli altri nodi c'è il 2. Quindi, forse, dal punto di vista dell'efficienza ci scricchiola qualcosa in mente. Però dipende sempre da quello che dobbiamo farci. Ma, concettualmente, la rappresentazione, quindi memorizzare l'informazione sul grafo è la stessa cosa. Semplicemente non ho l'anomalia, se vogliamo, che ogni arco deve essere rappresentato due volte, ma ogni arco viene rappresentato solamente quando è orientato nel verso giusto. Vabbè, qui un esempio di un altro grafo più grande, più complesso, prendiamo, che ne so, il nodo 6, qui dice che la lista di adiacenza è di 6, è composta da 5, 2, 7 e 10. Quindi ci dobbiamo aspettare che ci sia un arco tra 6 e 5, e questo qua sotto, ci sia un arco tra 6 e 2, che è questo che va su, un arco tra 6 e 7, un arco tra 6 e 10. l'arco, il nodo, è facile, no, vediamo a occhio qual è l'out degree, il grado in uscita, il numero di frecce uscenti, il numero di frecce entranti da questa tabella sotto è difficilissimo da vedere, come dicevamo prima. Invece, la rappresentazione della matrice, anche qua vediamo sul nostro grafo piccolo d'esempio, la caratteristica di questa matrice è il numero, il cui lato è pari al numero di vertici, una matrice quadrata, nel caso dei grafi non orientati è di essere una matrice simmetrica. ovviamente in questa rappresentazione posso rappresentare solo grafi semplici, ricordiamo la definizione un grafo è semplice quando tra una copia di vertici esiste al più un arco, perché dal grafo, dal nodo 1 al nodo 2 o c'è l'arco o non c'è e qui ho una casella sola dal nodo 1 al nodo 2 nel caso di una lista di adiacenza se ci fossero stati due archi diversi o tre tra il nodo 1 e il nodo 2 semplicemente avrei messo il nodo 2 poi il nodo 2 poi il nodo 2 ancora magari con informazioni aggiuntive tipo il peso o un'etichetta diversa ma non c'era nessun problema a gestire con liste di adiacenza grafi non semplici nel caso di una matrice di adiacenza è impossibile perché ogni casella rappresenta un arco potenziale o c'è o non c'è se no più di una non so dove metterlo non c'è la casella ok? nel caso dei grafi semplici quasi sempre si presume che non ci siano dei loop dei cappi tra nodi e nodi e quindi la diagonale sarà praticamente sempre nulla allora questo mi dà delle limitazioni non posso rappresentare i loop non posso rappresentare grafi non semplici ma mi dà anche un vantaggio che in realtà nell'implementazione quando devo memorizzare questa matrice non la vado mai a memorizzare tutta ne memorizzo un po' meno di metà perché la diagonale se è tutti zero per costruzione e la parte bassa se è simmetrica la parte alta basta che io rappresenti solamente metà della matrice che mi dà qualche risparmio di memoria in più anche perché memoria è una matrice ma se stiamo parlando di grafi che hanno prima parlavamo di centinaia di miliardi di nodi fai il quadrato di centomila e poi ne riparliamo e quindi un risparmio della metà può essere utile sempre parlando di memoria al di là di questo fattore un mezzo che ci può tornare utile quello che notiamo è che il numero la dimensione di questa matrice è indipendente da quanti archi ho che io abbia tre archi in tutto oppure che il grafo sia densissimo la matrice è sempre corso uguale numero di vertici per numero di vertici mentre invece nella rappresentazione alla lista il numero di elementi che ho cresce al crescere il numero di archi quindi se sono tanti archi queste liste diventeranno più lunghe se sono pochi archi queste liste conterranno pochi elementi così si dice anche dal punto di vista della complessità sintotica dello spazio occupato nella rappresentazione alla lista intuitivamente va meglio se il grafo è abbastanza sparso ha una densità abbastanza bassa in cui per ogni vertice le liste di adiacenza non crescono a dismisura mentre invece se una lista di adiacenza dovesse crescere molto allora magari mi conviene fare una matrice no? quindi una matrice va bene quando il grafo è molto denso una lista va meglio quando il grafo è più sparso che in realtà la maggior parte dei grafi sono sparsi ci sono dei problemi in cui il grafo è completo e allora implicitamente abbiamo una matrice ha senso usare una rappresentazione a matrice quando il grafo è completo perché gli archi ci sono tutti la stessa informazione messa in una serie di liste occupa molto più spazio perché la lista comunque sono oggetti separati devono avere ciascun riferimento successivo spende più memoria nel caso di grafi orientati come si trasforma la matrice di adiacenza continua a fare quel che deve fare con la differenza che non è più simmetrica quindi ad esempio vediamo tra 2 e 4 c'è un arco che va da 2 a 4 quindi sulla riga del 2 colonna 4 c'è l'1 ma sulla riga 4 colonna 2 non c'è c'è 0 quindi di per sé c'è un 1 solamente non sono più intercambiabili le righe e le colonne quindi devo fare attenzione che le colonne siano l'uscita e le righe siano scusate il numero di riga è l'out e il numero di colonne è l'in in questo caso oppure le disegno al contrario ma devo scrivermelo bene sottolineato in rosso per non sbagliarmi mai perché non è più intercambiabile qui ho fatto vedere anche il caso in cui ci fosse un cappio allora in questo caso nella diagonale ci metto un elemento diverso da 0 potevo anche fare un altro caso ma nel caso dei grafi non diretti i cappi sono quasi sempre inutili quando teoricamente lo puoi immaginare ma poi nei problemi pratici che sono modellabili con un grafo non diretto quasi mai ti viene ti salta fuori la necessità di rappresentare un cappio nel caso di grafi pesati la matrice di adiacenza si presta facilmente nel senso che anziché mettere solamente 0,1 per dire l'arco c'è o l'arco non c'è ci mette direttamente il numerino che rappresenta il peso dell'arco ovviamente se gli A in questo tipo di rappresentazione se per caso gli archi oh perdon se per caso 0 fosse un valore lecito per il peso allora dovrò usare un numero diverso per indicare che gli archi non sono collegati che i vertici non sono collegati a un arco che so meno 1 meno 18.000 non è molto oggetto oriente di questa soluzione perché mescola due tipi di informazioni la presenza di un arco e il peso associato a quell'arco ma è molto compatta come rappresentazione vabbè qui c'è di nuovo esempi su grafi più grandi in cui si può andare a divertirsi a spulciare la rappresentazione ecco l'altra struttura di cui abbiamo accennato è la matrice di incidenza usata in casi particolari non si usa molto che però ha il vantaggio di trattare diciamo così a pari merito con uguale importanza vertici e archi in questo caso sempre il nostro grafo di esempio qua sotto i vertici anziché chiamarli semplicemente 1, 2, 3, 4 per non confondere tra vertici e archi li ho chiamati v1, v2, v3 e ho dato un nome agli archi e1, e2, e3 sono invece un nome per distinguerli non è una cosa interna nostra la matrice di incidenza rappresenta sulle righe i vertici sulle colonne e gli archi e in ciascuna casella c'è un 1 se quell'arco è incidente su quel vertice cioè 2 riga 2 colonna 3 c'è un 1 perché il vertice v2 è adiacente all'arco e3 v2 e3 dove va quell'arco e3 e andiamo a vedere qual è l'altro vertice incidente a il 5 quindi se io lo leggo per colonna in ogni colonna avrò esattamente due uni perché un arco collega sempre due vertici quindi l'arco 2 collega il vertice 1 col vertice 5 l'arco 4 collega il vertice 2 col vertice 4 quindi vista per colonne ho tanti zeri tranne in due posizioni in cui ho 1 vista per righe ho il numero di archi incidenti su cui è determinato vertice quindi in questo caso sul 2 sulla riga 2 ho 1 2 3 4 1 che significa che sul vertice 2 sono incidenti 4 archi poi dall'arco devo trovare il vertice e allora per sapere dove vado a finire con questo primo arco devo andare a cercare l'altro 1 in questa colonna è un po' indiretto passare da vertice a vertice perché dal vertice trovo l'arco e dall'arco devo cercare qual è l'altro vertice e qui arriva questa rappresentazione dicevo normalmente non si usa molto proprio perché è macchinoso da navigare il grafo ma si presterebbe facilmente a due generalizzazioni una è che è quella degli ipergrafi cioè concepire un arco che non sia adiacente solo a due vertici ma a più vertici a tre vertici o altro è una cosa strana da disegnare fa male però è una cosa che voi fate normalmente quando progettate le basi dati c'è una relazione ternaria la relazione che coinvolge tre entità la relazione è una l'entità qui è adiacente se usiamo il linguaggio di grafi sono tre quindi è possibile generalizzare il concetto di grafo pensando che un arco non sia solamente una coppia di vertici ma un insieme di vertici questa rappresentazione non ne soffre l'unica differenza è che sulle colonne non ci saranno solamente due uni ma ce ne saranno di più e analogamente è facile relativamente facile su questa matrice costruire quello che si chiama il grafo duale c'è un grafo in cui trasformi ogni arco in un vertice e ogni vertice in un arco e li colleghi tra di loro ma diciamo sono problemi abbastanza di nicchia rispetto alla maggior parte di quelli che abbiamo visto non vedo queste necessità nei problemi che abbiamo discusso prima nel caso di un grafo orientato come si può modificare la matrice di incidenza ebbè indicando un segno se a questo punto l'arco 2 non dirò più solo che collega il vertice 1 col vertice 5 ma dirò che esce dal vertice 5 per entrare nel segno negativo per entrare nel vertice 1 segno positivo quindi l'arco avrà le due estremità che sono tra di loro diverse questa rappresentazione ha il difetto sia prima non l'avevamo visto che adesso lo commentiamo adesso che i cappi sono difficili da rappresentare perché se ho un arco che ha come vertice di partenza e vertice di arrivo lo stesso vertice dovrei mettere più 1 o meno 1 nella stessa casella oppure nel caso del grafo non diretto avrei una colonna che contiene solo un 1 in corrisponenza di quel vertice che fa sia da partenza che da arrivo e poi vai che tutti gli algoritmi debbano tener conto che in quel caso particolare lì non troverai mai un altro 1 sulla stessa colonna quindi nel caso in cui il grafo abbia un cappio la matrice di incidenza dimentichiamocela allora per tirare un po' le fila di queste rappresentazioni io ho provato a fare questa tabellina qua escludendo la lista di incidenza che poi di fatto è molto simile alla lista di adiacenza da questo punto di vista ho provato a calcolare qual è lo spazio occupato da queste strutture e quali sono i tempi necessari per le operazioni fondamentali poi non ho detto che siano le uniche che ci servono ma giusto per avere un primo confronto un primo criterio di scelta come vogliamo sempre fare noi allora nel caso dello spazio occupato la lista di adiacenza quanto spazio occupa beh ci vuole l'array con i vertici e per ciascun vertice tanti elementi di una lista quanti sono gli archi in totale quanti sono gli elementi di queste liste presi tutte insieme è uguale o al numero di archi nel caso in cui il grafo sia non orientato o al doppio del numero di archi nel caso in cui il grafo sia orientato al contrario uguale al numero di archi se il grafo è orientato sì il doppio numero di archi se il grafo è non orientato ma come ordine di grandezza siamo sempre ordine di grandezza di E quindi di fatto è V più E cresce linearmente nel numero di vertici e nel numero di archi la matrice di adiacenza è una matrice V per V cresce quadraticamente col numero di vertici la matrice di incidenza è la peggiore di tutti perché è una matrice V per E tanti vertici per tanti archi occhio non facciamoci fregare diciamo allora questo è meglio questo è lineare e questo è quadratico perché qui c'è un più e qui c'è un per e attenzione però che V e D non sono variabili indipendenti il numero di archi in un grafo potenzialmente è pari al quadrato nel numero di vertici quindi in un grafo denso dove il numero di archi è circa uguale a tende a essere vicino al numero di archi possibili non un grafo denso alta densità di archi tende a essere dell'ordine di V al quadrato allora magari conviene la matrice di adiacenza invece in un grafo sparso in cui il numero di archi si sta ben lontano dalla densità massima quindi molto minore di V al quadrato decisamente dal punto di vista dello spazio occupato conviene una rappresentazione con liste di adiacenza dal punto di vista dello spazio occupato perché se un grafo fosse molto denso avremmo V più V al quadrato perché E si avvicina a V al quadrato allora a questo punto sarebbero molto confrontabili col fatto che una matrice è sicuramente più comoda da gestire che una serie di liste cioè non per il fatto che la matrice si può navigare sia in orizzontale che in verticale mentre le liste avevamo visto che nel caso del grafo orientato tornare indietro non ci riuscivo se no a un costo elevato questo dal punto di vista dello spazio della rappresentazione la matrice di incidenza è sempre più grande degli altri quindi non regge il confronto e poi ho provato a ipotizzare quanto tempo ci vuole quindi qui sotto abbiamo una complessità in tempo quella sopra in spazio per fare due operazioni elementari controlla se un arco c'è qui ti do due vertici dimmi se c'è l'arco allora nel caso della matrice di adiacenza è banale ok mi hai dato i due vertici riga colonna c'è uno c'è zero tempo costante o di uno devo accedere ad una cellula della matrice determinata dalla conoscenza dei vertici punto nel caso di una lista di adiacenza cosa devo fare per sapere se v e w sono collegati eh a mia scelta prendo la lista di v e vado a analizzare tutti gli adiacenti di v per cercare se c'è w è un'operazione che ha una complessità in una lista è una complessità lineare nella lunghezza della lista e la lunghezza della lista che cos'è beh è il grado il degree del nodo sorgente allora anche qua dipende se il mio grafo ha dei nodi che hanno tutti un grado molto basso cioè in un grafo stradale il grado è sempre basso in un incrocio quante strade arriveranno 6 7 ma bisogna già trovare un incrocio così sono tutti nodi che hanno grado 2 3 4 normalmente in un grafo stradale e quindi di fatto è un nodo 1 sta roba si non è un nodo 1 è un nodo 4 ma va bene il grado non tende a crescere a esplodere al crescere la dimensione del grafo quindi in questo caso però dipende da come è fatto il grafo se invece ho dei nodi che sono connessi a tutti pensa a facebook Barack Obama altro che l'iniziazione del grafo quanti like avrà allora il grado è molto ampio e allora trovare tutti gli adiacenti tutti quelli che gli hanno fatto like è un'operazione che è costo lineare se Tizio gli ha fatto like è un'operazione che avrebbe costo lineare in una rappresentazione alla lista nella matrizia di incidenza ci viene mal di testa a pensarci perché mi danno due vertici e mi chiedono senti ma c'è per caso un arco che li collega eh due vertici sono due righe diverse allora io devo prendere quelle due righe andare colonna per colonna a chiedermi senti ma per caso in questa colonna c'è un uno sia in questa righe che in quell'altra e andare colonna per colonna a vedere se ci sono due uni messi proprio bene in quelle due righe che corrispondono ai due vertici e quindi o di e cioè dipende da quante colonne ho e le colonne sono il numero di archi nel caso in cui l'arco è da ritrovare quindi abbiamo detto check edge dimmi se c'è un arco nel caso in cui l'arco è da ritrovare si è espresso mediante i vertici estremi dell'arco nel caso in cui casualmente io sappia già come si chiama l'arco l'arco 27 c'è allora in questo caso è un tempo costante perché so già qual è la colonna vado a cercare le due celle di quella colonna lì ma è un caso abbastanza limite altro problema altra domanda semplice che possiamo farci sul grafo ti do un vertice v dimmi tutti gli vertici adiacenti allora qui distribuiamo tra dimmi e dammi se in una lista adiacenza se chiedessi dammi tutti i vertici adiacenti al vertice 3 io ho è un'operazione che mi costa o di uno ti do la lista ti do il riferimento alla lista se invece è dimmi cioè stampami elencami allora avrò ovviamente una complessità che è data dal numero di elementi stessi dal numero di elementi effettivamente adiacenti col vertice lì non mi importa quanto sia grosso il grafo perché in quella lista ci sono solo loro nel caso delle matrici di adiacenza qualunque sia il grado di quel vertice per sapere quali sono i vertici adiacenti devo comunque leggermi l'intera riga tutta e quindi è una complessità costante sempre il numero di vertice non dipende dal grado e di nuovo ritorno ritornello che se il grafo effettivamente fosse molto denso conviene lavorare con un numero di V se il grafo fosse sparso effettivamente lavorare con una complessità che è proporzionale al grado dei vertici e non al numero totale di vertici è più conveniente nel caso di matrici di incidenza vabbè significa partire dal vertice trovare un 1 e per ognuno andare a scandire le colonne per sapere quali altri vertici ci sono qual è l'altro vertice adiacente a quell'arco ma diciamo l'ultima colonne di matrici di incidenza l'abbiamo messa solo qua per completezza per vedere che si può fare ma come dicevo è una rappresentazione che non si presta molto a essere navigata queste altre due invece si allora questo in teoria in pratica in pratica dovremmo se avessimo un grafo da rappresentare dovremmo metterci lì e costruire le nostre liste o le nostre array eccetera eccetera e poi su questo costruire varie procedure aggiungi un vertice aggiungi un arco dimmi se c'è dammi tutti gli adiacenti eccetera eccetera con ciò che conosciamo per fortuna non lo dobbiamo fare perché esiste una libreria molto famosa molto utilizzata che è l'equivalente diciamo così come filosofia delle collections nel caso dei grafi ci dà già tutte le strutture dati astratte e ci permette di lavorare sul problema e non sull'implementazione delle strutture dati quindi un bel intervallo e poi entriamo dentro questa libreria jgraph t attenzione che c'è questa t finale se togliete la t trovate un'altra libreria che si chiama jgraph che però serve per fare grafici non grafi e non c'entra niente quindi occhio a cosa cercate facciamo 20 minuti di pausa e riprendiamo dopo grazie a tutti grazie a tutti